Finalmente, dopo sei anni di attesa, aprirà a tutti i cittadini il Giardino Segreto di Via Manfredi 11. Lo spazio verde è frutto di una convenzione tra pubblico e privato, con la quale una ditta si è impegnata nella realizzazione del giardino in cambio della possibilità di costruire alcune otto rimesse interrate per un condominio. Al 2004 risale la firma della convenzione, nel 2006 l'inizio lavori terminati poi nel 2009. Sono quindi sei anni che i cittadini attendono di poter entrare nell'area verde e a destinazione pubblica. L'apertura diventerà ufficiale non appena la proprietà posizionerà i cartelli su cui saranno apposti orari e divieti. Il giardino, che resterà aperto dal 1 marzo al 30 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19 e dal 1 settembre al 30 novembre, dalle 11 alle 18, sarà gestito interamente dal condominio I Giardini di Via Manfredi 11, compresi l'annaffio, la pulizia e la manutenzione del verde. L'attenzione sul giardino di Via Manfredi era stata posta alcuni mesi fa dalla consigliera di Forza Italia Maria Lucia Girometta, che ne aveva chiesto l'apertura tramite un'interrogazione consegnata in comune.